Magari adesso vi diamo anche qualche dettaglio che è importante. L'accordo prevede sostanzialmente un nuovo progetto, possiamo chiamarlo il progetto 2.0. Sarà un progetto innovativo, abbiamo ottenuto un taglio delle cubature, da oltre 1.100.000 m3 siamo scesi della metà, di cui il 60% solo sul business park. È un progetto che prevede la completa messa in sicurezza del quartiere di Decima, dal punto di vista del rischio idrogeologico. È un progetto che prevede la costruzione di una nuova fermata sulla Roma Lido. È un progetto che prevede la riqualificazione dell'asse viario via Ostiense e via del mare. È un progetto che prevede la costruzione di edifici bassi, quindi via le torri, edifici completamente integrati nel panorama e che avranno uno standard energetico più alto delle varie categorie mondiali. Si chiamano Lidgold, scusatemi, questo dato tecnico mi mancava.